Tre giorni all'insegna della storia, dell'arte e del passato di Rivoli Veronese che vide alla fine del 1700 la presenza di un grande condottiero, Napoleone Bonaparte che proprio in questa terra sconfisse gli austriaci e diede inizio alla sua ascesa. A questo intento il progetto promosso dall'Associazione Identità Europea è in collaborazione con il Comune di Rivoli, la provincia di Verona, l'Associazione Napoleonica d'Italia ed il contributo del Consorzio BIM. Un binomio incindibile e reciprocamente sinergico. reciprocamente sinergico nel senso che se non ci fosse stato Rivoli Napoleone sarebbe rimasto un oscuro generale e non sarebbe mai asceso alla fama a cui poi è arrivato. Analogamente possiamo dire per Rivoli Veronese che se non si fosse celebrata questa battaglia sarebbe rimasto un oscuro borgo alle Falle del Baldo senza poi invece essere lanciato come di fatto lo fu nel 1997 alla ribalta della storia. La tre giorni a Rivoli dal 4 al 6 ottobre prossimi prevede oltre al convegno intitolato Napoleone 1797 Rivoli e la Serenissima in cui interverranno illustri relatori anche una mostra su Napoleone e la fine della Serenissima curata dallo storico Francesco Mario Agnoli laboratori didattici per bambini e studenti delle scuole primarie oltre ad avere l'intento di promuovere e rilanciare il territorio sul piano turistico e culturale. Come nasce questa tre giorni? A seguito di un lavoro pluriennale impostato da Identità Europea nel Veneto ricordiamo la mostra a Napoleone e la caduta della Serenissima che verrà anche a Rivoli ma che fu presentata tre anni fa in diretta a Venezia. Ricordo anche altre iniziative fatte in occasione del bicentenario dell'insorgenza antigiacobine e per cui la nostra è un'associazione che ha lavorato molto soprattutto per impulso del suo secondo presidente, lo storico del risorgimento Francesco Mario Agnoli. E quindi questa iniziativa che scopo ha? Quello di indagare ancora una volta sulla figura di buona parte a Rivoli oppure anche di incrementare qualche conoscenza in più? Allo scopo primario di far ricomprendere come i fatti storici che hanno la loro specificità e cui approfondimento non è mai terminato ovviamente comporta anche un giudizio sul presente. Noi non studiamo mai la storia in maniera settica, lo facciamo per capire l'oggi e questi sono tutti episodi per cui è necessario essere vigili, criticamente attenti non solo per capire meglio quello che accade allora ma per capire quello che sta accadendo adesso. La storia continua a essere maestra di vita.